ben ritrovati ragazzi per un nuovo tutorial oggi andremo a vedere una funzione sul menu visualizza only show active arranger track cioè visualizza soltanto una traccia di arrangiamento andiamo quindi a vedere nel dettaglio supponiamo di avere la nostra traccia che la stessa sia suddivisa per diverse sezioni andiamo quindi a creare quella che la sezione per quanto riguarda le chitarre classiche quindi andiamo a fare nuovo rinomina classic guitar e andiamo a questo punto a selezionare le parti delle nostre chitarre andiamo a questo punto ad inserire una nuova parte dove andiamo a inserire le drama andiamo quindi a chiudere le parti della chitarra e apriamo la nostra cartella dove abbiamo creato le drama e andiamo a selezionare la prima parte di drama dopodiché andiamo ad inserire quelle che sono le parti vocali andiamo a tutti andiamo a tutti sezionato la nostra traccia quando andiamo a cliccare su una selezione dell'arranger abbiamo la possibilità di trascinare l'intera song diversamente se selezioniamo una sola aria come ad esempio la strofa o l'intro abbiamo la possibilità di portare ad esempio solo l'intro duplicarla con la pressione del tasto control e quindi con l'utilizzo del tasto sinistro del mouse questo logicamente possiamo farlo per tutte le parti della nostra traccia tenete presente che ogni volta che cliccate su una sezione di arranger selezionate la stessa sezione per cui se dovete fare uno spostamento solo della sezione sarà necessario cliccare due volte per poter spostare la sezione della ranger oppure semplicemente per poterlo eliminare prestate attenzione perché a volte selezionandolo la prima volta rischiate di cancellare tutto quello che è selezionato al di sotto dello stesso arranger andiamo su visualizza only show active arranger track in questa modalità abbiamo la possibilità di vedere soltanto un arranger per volta quindi vedremo solo l'arranger dedicata alla song solo quello dedicato alla parte delle chitarre solo quello dedicato alla parte dei dram solo quello dedicato alla parte delle voci potete abilitare o disabilitare lo stesso effetto direttamente cliccando con il tasto destro sulla finestra dell'arranger dopodiché andando a selezionare only show active arranger track ed ecco che compariranno gli stessi arranger potete naturalmente sempre chiudere la stessa finestra rimpicciolirla o ingrandirla a vostro piacimento bene anche per questo tutorial è tutto vi ringrazio per averci seguito mettete un like se vi è piaciuto iscrivetevi sul nostro canale e iscrivetevi sulle pagine social che trovate in descrizione alla prossima